Benvenuti alla Mavericks Cup, nuovo formato organizzato dall'associazione Mavericks che ha visto scontarsi i media expo e i vincitori dell'Under 17 contro i Silvestri Mavericks. Presentatevi. Sono Claudio Melone, capitano della scuola dei Mavericks. Salvatore Cuccio. Nicolato Mauro. Come stai giocando per il momento? Abbastanza male, sto facendo qualche errore di topo e cerchiamo di migliorare nel secondo tempo. Voi siete in vantaggio? Stiamo giocando bene, è una bella partita combattuta e speriamo nel secondo tempo di uscire i vincitori. Va bene, allora ci vediamo dopo. Benvenuti, no, stava la fine della Mavericks Cup e i vincitori sono i media expo. Presentatevi voi, avete perso. Metafora. Ciro Zinno. Melone. FDR. Ciro Zinno. Come avete giocato? Bene, bene, mi è piaciuto bene, è stata una bella finale. Abbiamo perso i rigori. Allora, ci hanno riassunto. I media expo stavano vincendo, poi quasi all'ultimo, sperimentale, hanno pareggiato. Poi stavano vincendo, poi hanno pareggiato, sono arrivati a rigore e avete perso. Tu sei segnato? Sì. Il rigore e il gore. Il rigore e il gore. Che lo dedichiamo? A te. Grande. Voi che volete dire, capitano? No, niente, ormai siamo abituati a perdere, quindi non ci tocca proprio. No, vabbè, comunque complimenti alla mia squadra. Un complimento a Simone L'Aventura, che ha spiato il rigore. Grande. Voi che volete dire da fuori? Sono forti i venditori, la verità, sono molto forti. Presenziamo i vincitori. Miss Echiotice. Pasquarello Antonio. Luigi Sorrentino. Torei Isis. Gargiulo Antonio. Cino Antonio Scogna Miccia. Zappadierre. Salvatore. Aniello. Alessio Moresca. Imperato Mauro. Aldo Alpino. Salvatore Bronsino. Cammino Cefarello. Allo mister, come hanno giocato? Solo noi, senso unico, gol, errori nostri. Potevamo vincere già al primo tempo. Il nostro portiere ha sbagliato il loro gol. Siamo una realtà, non siamo più la cenorentola. Siamo cinque finali, cinque vittorie. Il mister le può anche dare a casa. Allora, vi chiedo questa vittoria a tutti questi ragazzi. Sono pazzi come me. Sono grandi questi ragazzi. Allora, hanno segnato Moresca. Un gol. Alla mia ragazza Lucia e tutta questa splendida tifoseria. E poi, imperato. Alla mia ragazza e tutta la squadra. Anche io ho segnato, anche io. Alla mia ragazza e tutti i miei ragazzi. Voglio dire una cosa, siamo di San Giovanni, di una Pesignano. Che vogliamo dire più? Come avete giocato? Bene, bene. Troppi errori dietro. Non ce ne sono per nessuno. Siamo giocati bene. Un po' dietro errori difensivi. Anche il portiere. Questo ragazzo non sa giocare. Fa pescare, fa bene. E' il migliore in campo? Gargiulo, Curcio e il portiere che ha provato il rigore. Voglio fare un ringraziamento a Mariano e Emanuele che hanno fatto un grande evento quest'anno, anche migliore, la Supercoppa con i piccolini e che ci fanno andare chi vince a Roma. Un bel format, sì. Vabbè, andiamo a fare la premiazione? Grazie a tutti. Grazie a tutti.